Buonasera, bentrovati, vediamo i titoli di oggi. Più di 8.000 automobilisti da inizio anno sono passati con il semaforo rosso nel Riminese, nonostante i Vista Red. Dal Comune intanto via libera definitivo a 10 nuovi dissuasori di velocità. Nuovi voli e conferme nel 2020 dell'aeroporto Fellini, il punto sul futuro dello scalo in attesa degli investimenti infrastrutturali annunciati. Razzismo, sessismo e omofobia, un video per dire no al late speech fatto direttamente dalle vittime, la presentazione oggi a Rimini. Calcio, il presidente Grassi parla del futuro del Rimini e annuncia, dal prossimo anno non ci sarò più, finisce la mia esperienza nel calcio. Ben rientrati in studio, sono migliaia gli automobilisti che da inizio anno sono passati con il semaforo rosso sulle strade riminesi. Una brutta abitudine che non accenna a diminuire nonostante l'installazione dei Vista Red. E intanto il Comune di Rimini ha dato il via libera definitivo ai nuovi dissuasori di velocità. Vediamo. Sono 8.290 le violazioni registrate nel corso del 2019 dai cinque Vista Red operativi sulle strade riminesi. Un numero impressionante, specie se si tiene conto della gravità della violazione che non a caso il codice della strada punisce non solo con una sanzione amministrativa di 163 euro, ma anche con la decurtazione di 6 punti sulla patente, destinati a diventare 12 qualora i conducenti abbiano conseguito il titolo di guida da meno di tre anni. Tra i sistemi semaforici installati, quello sulla consolare con via della gazzella, attivo da agosto, ha riscontrato il maggior numero di infrazioni, ben 2.575 fino ad oggi, di cui 532 a carico dei veicoli stranieri e 591 san marinesi. Da segnalare come il 37% del totale delle violazioni, oltre 3.000 quindi, si è avvenuti in orario notturno. Da qui il conseguente inasprimento delle sanzioni del 30%. È l'impianto posizionato all'intersezione tra Viale Principa Medeo e Viale Perseo, quello che con 2.280 verbali ha fatto registrare il maggior numero di infrazioni dopo via della gazzella. Segue poi quello posizionato tra via Marzabotto e via di Mezzo con 1.449 violazioni e Siracusa-Tommaseo con 1.416. Solo 570 per l'impianto tra via Beltramini e via Sacramora-Viserba. A breve, ai 5 Vista Red già operativi, se ne aggiungeranno altri due, che saranno installate l'intersezione tra Viale Regina Margherita e via Catania e tra le vie Chiabrera-Satta-Giangi. Gli automobilisti dal piede pesante sono avvisati. C'è stato un incidente questa mattina a Poggio Toriana, dove un furgone ha preso fuoco improvvisamente andando completamente distrutto. Danneggiato anche un camion parcheggiato nei pressi. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco. Il robo si è sprigionato sulla Sant'Arcangiolese nei pressi di Ponte Verucchio intorno alle 9. Dei primi riscontri pare che a innescare l'incendio sia stato un malfunzionamento del furgone mentre si trovava in marcia. Il conducente ha fatto in tempo a parcheggiare nel cortile della propria azienda prima che divampassero le fiamme. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, per fortuna nessun ferito. In attesa dei maxinvestimenti del Masterplan presentati nelle scorse settimane, l'aeroporto Fellini continua a muovere importanti tasselli. Nella scacchiera della prossima stagione estiva arrivano nuovi voli, mentre per altri collegamenti aumentano sensibilmente le frequenze. Vediamo. Sul sito della compagnia di bandiera della Polonia, LOT, sono già in vendita i biglietti da Varsavia per Rimini. Si tratta di un nuovo collegamento che opererà sul Fellini ogni sabato a partire dal 6 giugno fino al 26 settembre 2020. Varsavia è già tra l'altro collegata con lo scalo di Miramare da Ryanair. Confermato poi il collegamento giornaliero con Mosca, sempre per la summer season, da parte della low cost russa Pobeda. Già in vendita anche la new entry Zaporizia con la compagnia SkyUp. La prossima estate il Fellini potrà contare poi sui già annunciati collegamenti per Vienna, con la compagnia austriaca Lauda del gruppo Ryanair. Voli il venerdì e lunedì dal 30 marzo al 23 ottobre. Si attendono invece novità sul collegamento con Bruxelles, collegato al bando regionale sul co-marketing. Previsti poi molti aumenti di frequenze, che faranno lievitare il numero di passeggeri dello scalo di Miramare. Krasnodar dal 1 aprile passerà da uno a due collegamenti a settimana. Raddoppio anche per Lussemburgo, che da luglio arriverà a tre voli. San Pietroburgo passerà invece da 4 a 5 frequenze settimanali. Budapest poi partirà da fine marzo, anziché da maggio, e Varsavia con Ryanair sarà prolungato fino ad ottobre. Nel 2019 si fermò invece ad agosto. Solo queste modifiche dovrebbero portare circa 90.000 passeggeri in più, senza contare gli effetti del bando regionale di co-marketing. E se quest'anno il Fellini chiuderà con poco meno di 400.000 passeggeri, nel prossimo il mezzo milione potrebbe essere alla portata. Dopo un'estate di polemica, tempo di bilanci per la balneazione. Aumentano i casi di non conformità delle acque a causa, spiega Arpa, di eventi eccezionali. A Bella Riva, a Colonnella, a Rimini e in Viale Fiume, a Cattolica, il maggior numero di aperture degli scarichi nel corso della stagione. Un'estate, quella 2019, molto complicata per la balneazione. Dei 685 campioni effettuati da Arpa e tra il 25 maggio e il 30 settembre, 72 sono risultati non conformi. 101 invece i campioni aggiuntivi o straordinari a conferma del rientro delle acque nei limiti legislativi. L'aumento significativo del numero di non conformità, spiega Arpa, è dovuto ad eventi meteoclimatici eccezionali, verificatisi nelle settimane dal 20 al 26 maggio e dal 22 al 28 luglio, che hanno condizionato gli esiti dei campionamenti programmati. Proprio il tema dei prelievi programmati a priori, a prescindere dalle condizioni meteo, è stato oggetto di accese discussioni nel corso dell'estate, vista anche la risonanza mediatica avuta dallo stop alla balneazione in riviera. Il report di Arpae riporta anche il numero di aperture degli sfioratori per ogni località. A Rimini spiccano le 12 aperture di Bellariva Colonnella per un totale di oltre 334 ore di divieti di balneazione. Ci sono poi 11 aperture per Torre Pedrera Brancona, 274 ore di divieti, Riva Azzurra Rodella, 300 ore, e Miramare Rioasse Nord, 434 ore. Proprio la zona di confine, Rioasse Sud, è quella con il maggior numero di aperture anche a Riccione, 11 per 434 ore di bagni vietati. Per 12 volte si è aperto in stagione anche lo sfieratore di Viale Fiume a Cattolica, per un totale di 258 ore di stop alla balneazione. Per quanto riguarda poi la classificazione delle acque, quelle riminesi risultano eccellenti, con qualche eccezione però. Qualità scarsa la foce Marecchia Nord, unico caso in regione, è sufficiente in quella sud a Rimini. Sufficiente alla foce del Marano Sud, a Riccione, nel 2018 era però scarsa. Buona al rio Agina a Misano. Da segnalare il Torrente Ventena, a Cattolica, dove la qualità passa da buona ad eccellente. Un video per far capire quanto pesano le parole di odio che vengono dette sui social network e per invitare le vittime di discriminazione a segnalare i loro casi per non sentirsi sole davanti alla violenza subita sul web. E' questo lo scopo del video presentato oggi dal Comune di Rimini e dalla rete antidiscriminazione. Vediamo. Razzismo, sessismo e omofobia. Sono 30 le segnalazioni di hate speech ricevute dal 2018 oggi dai vari canali della rete antidiscriminazione. Ma ogni giorno sui social network sono tante le parole di odio che per tanti motivi non vengono segnalate. Dette magari da chi pensa che quello sia un mondo a parte, non reale, e che non pensa alle conseguenze. Il video dal titolo ti sembra più reale, così vuole essere uno stimolo invece a denunciare, come ha già fatto in passato il vice sindaco Lisi. Penso che sia un dovere etico e morale denunciare. Non è facile e per me comunque è stata una scelta sofferta perché non vorresti neanche causare del male a una persona che ti ha insultato e ti fai sempre un sacco di scrupoli quando sai che comunque dietro quelle parole e quella tastiera c'è un padre di famiglia, una mamma di famiglia, una nonna, persone magari anziane, persone giovani, uomini e donne che magari normalmente non sono neanche persone violente ma che in un momento di rabbia hanno scritto delle parole offensive. Denunciare aiuta tutti a sentirsi anche meno soli. Sappiamo che alcune persone, alcune ragazze, alcune donne vittime proprio di hate speech hanno fatto delle scelte drammatiche. C'è chi si è suicidato per aver subito continuamente degli hate speech. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare e abbiamo una responsabilità su tutti anche su quelli che non denunciano. Se ci stai posso essere il tuo migliore amico, se non ci stai sarò il tuo peggior nemico. Ma questa non ha i piatti da lavare? Va a casa. Il video, ispirato a Fa la cosa giusta di Spike Lee, ha visto come veri e propri protagonisti le vittime di hate speech che hanno selezionato dopo riunioni non facili i testi da leggere. Sono frasi reali prese dal social network, errori grammaticali compresi ed è stato un lavoro molto faticoso soprattutto per le vittime perché ripetere quello che hanno subito è comunque doloroso. Dopo il volume dedicato ai paesaggi è stato pubblicato il libro che raccoglie le opere a tema sacro dell'artista riminese Giorgio Bellini. La presentazione è stata nei giorni scorsi al Teatro degli Atti. Una pennellata di vita che scalda il cuore, così è stata definita la pittura dell'artista riminese Giorgio Bellini. Intenso il tratto di spiritualità che si coglie in tutte le sue opere. Ora, un volume dal titolo Un inno alla divina umanissima bellezza raccoglie quelle a tema sacro. Una delicatezza di tratto e di colore che rappresentano la personalità di Bellini e la sua capacità di cogliere proprio la bellezza. Fin da ragazzino che dicevo a volte che tu vedi un colore camminando per strada un fiore. Stamattina oggi è bello perché si rispecchia la luce solare e a sera si spegne. Però domattina tu ripasci e ne trovi un altro. Così tanto bello, forse più bello di quello di ieri. Immagina questa poesia che ci ha dato Dio dentro di noi. E allora questa veramente è la poesia dell'amore. Dell'amore verso chi mi sta attorno, chi incontro, soprattutto l'amore al creato. Il colore, la luminosità, la dolcezza con cui il maestro si accosta alla pittura fanno sì che ce ne danno un'immagine docile, semplice. E questo ha un valore forte perché è un'immagine a cui ci possiamo avvicinare. Non ci impone una distanza. È un'immagine vicina che possiamo rivedere, riguardare ed avere accanto. È facile fare un'iniziativa così. Perché Berlini, a parte l'artista che è bravissimo, ha un animo mite, un modo di comportarsi straordinario fuori dal tempo. È un gioiello per questo territorio. Perché è un qualcosa da coltivare, da tenere, da custodire. E siamo al calcio. Giorgio Grassi è 360 gradi nel collegamento in diretta telefonica di ieri sera con la nostra trasmissione calcio.basket dalla cena di Natale del Rimini. Tra i temi trattati dal Presidente, oltre al ventilato sciopero della Lega Pro, nel prossimo fine settimana, l'ufficialità arriverà probabilmente giovedì, il mercato di gennaio e il futuro della società bianco-rossa. Adesso chiaramente si ricorrerà al mercato di gennaio. È un Rimini che, penso, comunque proverà a giocarsi le sue carte per risalire la china? Ma io credo che non sia così difficile acquisire, trovare quei tre o quattro elementi che possono veramente fare la differenza. Ormai abbiamo capito quali sono i reparti dove dobbiamo lavorare, dobbiamo intervenire. Sicuramente non possiamo permetterci di sbagliare. Siamo sulle tracce di giocatori che portino, che abbiano personalità, che riescono a prendere in mano la squadra nei momenti difficili, cose che in questo momento, caratteristiche in questo momento qui, non ci sono nella squadra perché, come avete visto, preso il gol facciamo molta fatica a recuperare, la squadra invece di reagire tende a sparire dal campo. Le cose di cui mi sono finito di più in assoluto, che comincia dall'anno scorso, di non aver avuto un personale con l'esperienza giusta per affrontare il campionato professionista. Questa è la prima cosa in assoluto. E il ribaltone di quest'estate purtroppo ha fatto più danni di quanti non avessero fatti, diciamo, le persone con poche esperienze dall'anno precedente. Quindi il bilancio adesso è siamo caduti dalla padella alla braccia. Questo è. E per quanto riguarda il mio futuro a Rimini, è matematico che io dall'anno prossimo non ci sarò più. Questa è la certezza, insomma. La mia esperienza col calcio Rimini, forse anche col calcio in generale, si chiuderà il 30 ad aprile, ma forse anche prima, dipende da tante cose. Non ho più gli stimoli e non ho più probabilmente neanche gli interessi, perché come è organizzato oggi il calcio di Serie C non è per imprenditori che stiano attenti ai bilanci, che abbiano anche delle finanze, come si dice, limitate. Va bene per i miliardari, ecco proprio. Calcio da raggiungere per i miliardari o per i delinquenti, sono queste due categorie. Cena di gala all'Hotel Corallo per la ginnastica Riccione, che durante la serata per lo scambio di auguri di Natale ha ripercorso un 2019 da incorniciare, coronato con la storica promozione in Serie B nazionale della squadra di artistica femminile. Il bilancio sicuramente è positivo. Noi quest'anno abbiamo avuto la possibilità di fare tantissime cose, tra cui storiche, nel senso che la prima cosa è aver portato un master nazionale della federazione qui a Riccione, tenuto da Claudio Ferré. Un'altra cosa molto importante è che abbiamo partecipato a molti campionati, tra cui quello coreografico ad Assisi, e ci ha visto vincitori del gruppo coreografico. La sezione ritmica è un'altra sezione che sta crescendo molto, grazie a tutti gli allenatori che abbiamo. Anche la sezione artistica è importante, perché noi quest'anno abbiamo affrontato il campionato di Serie C, l'abbiamo vinto, e storicamente è la prima volta che parteciperemo a un campionato di Serie B nazionale. Cerchiamo con passi giusti e comunque con i piedi per terra di creare i presupposti per poter puntare ancora più in alto. Poi siamo anche molto contenti, perché quest'anno abbiamo riospitato la nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, che è la vista poi vincente ai mondiali di Stoccarda di ottobre, dopo 69 anni, e quindi siamo molto contenti l'anno prossimo di poter riospitare di nuovo la federazione e di poter crescere insieme a loro. La società ginnastica Reccione, oggi presiduta da Francesco Poesio, è sicuramente una realtà di grande importanza, perché fa da punto di riferimento a tutte quelle società che vogliono crescere e che vogliono fare al meglio anche velocemente. La ginnastica è uno sport dai tempi molto lunghi, non si diventa dei grandi ginnasti in un anno, in due anni, spesso ci vogliono anni e anni di attività quotidiana in palestra per poter arrivare a livelli di eccellenza. Francesco Poesio e la ginnastica Reccione oggi dimostrano in Emilia Romagna e in Italia che è possibile investendo tempo, risorse e riuscendo a far collaborare davvero le persone all'interno delle società a fare dei passi avanti in maniera positiva e veloce. È stato molto emozionante, ci siamo impegnate tantissimo, abbiamo fatto molti sacrifici, ci siamo impegnate tantissimo, ma ne è valsa assolutamente la pena, è stata una ricompensa enorme. Ed è tutto per noi, vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo domani mattina l'appuntamento alle 7.30 con la rassegna stampa locale, poi tutta una mattinata dedicata all'informazione, la prima edizione di Icaro Tg alle 8.30, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it, ovviamente le frequenze di Radio Icaro e il canale 91. Grazie, buona serata.